Se siete nervosi e volete rilassarvi, io ho comperato un gioco cinese, questo. E' un po' un controsenso, perché praticamente tu devi far girare sulle mani queste viglie. Allora, il controsenso dov'è? Che tu, per rilassarti, devi farti girare le palle sulle mani, così. Questo è il senso del gioco, quindi per rilassarti ti devono girare le palle praticamente, ecco qua, così uno si rilassa. Poi è cascata una palla, questa, forse con la testa, però. Un gioco cinese rilassante.